... Che stavi facendo, padre? Dovresti stare a letto. Crede di avermi sconfitto? Non sai invece che questa è l'ultima battaglia. L'ultimo duello con lui. E non lo posso perdere. Perché c'è il male nel mondo? E' stato bene a sentire. C'è una mamma che sta ricamando il telaio. Ma c'è un piccinello suo seduto vicino a lei, però sta seduto su uno sgabelletto basso. Il piccinello guarda il lavoro della mamma, però lo guarda alla rovescia, così, da sotto. E dice, mamma mia, ma che stai facendo? Quanto è brutto sto ricamando, no? Allora la mamma che fa? Abbassa il telaio e mostra la parte buona del lavoro. Tutti i colori al loro posto e tutti i fili composti nell'armonia del disegno. Allora la mamma. Via! 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 Questa è l'acqua. Questa è l'acqua. Questa è l'acqua. Non c'è l'acqua. Ma di Gesù Cristo, ti ordino Satana, lascia la pace. Lascia la pace. Ma di Gesù Cristo, ti ordino Satana, lascia la pace. Lascia la pace. Lascia la pace. Lascia la pace. E' come il rovescio di un rigamo. Siamo tutti seduti sullo scappello basso.